Buona giornata amici oggi è martedì 16 novembre ci ritroviamo ancora una volta insieme per dare un'occhiata ai giornali e cominciare così la giornata informandoci su quello che è avvenuto ieri e quello che si prospetta nella giornata di oggi passiamo però come sempre prima per vedere il santo del giorno e il meteo oggi è santa gertrude la grande una donna di grande spiritualità pensate entrò in convento a cinque anni di età visse una vita claustrale ma dotata appunto di grande spiritualità fu amante del sacro cuore di gesù e fu conosciuta appunto per la sua intensa religiosità passiamo ora al meteo e questa mattina appena ci siamo svegliati abbiamo visto il cielo oscurato da nere nubi non solo per la notte ma anche per l'intensità delle precipitazioni sarà dunque una giornata uggiosa sulle marche con molte nubi e piogge sparse in intensificazione nelle ore serali la temperatura è ancora in calo su pesaro si preannuncia una minima di 13 gradi una massima di 15 gradi ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani sul corriere adriatico vediamo che c'è un fatto eclatante all'interno della giunta regionale ombre gialle giunta isolata che significa significa che un assessore è stato trovato positivo al covid pur vaccinato si tratta dell'assessore castelli sto bene dichiara i vertici sono tutti in quarantena rinviato il consiglio regionale cambio di colore forse a dicembre la storti glissa fatemi le domande di riserva insomma non vuole rispondere a questa domanda e ricoveri intanto continuano a salire approfondiremo poi questa notizia vuole un disastro amadori lascia e l'articolo evidenziato dalla fotonotizia di centropagina annunciato il disimpegno a fine stagione per il basket pesarese le tre notizie a centropagina detenuto tenta di impiccarsi stato salvato da un agente a villa fastigi a pesaro un inserviente novac sindagato per chat che istiga alla violenza era un fanese è un fanese anzi e poi a fano maltratta la madre l'elo a coltella è stato però condannato il figlio nuova questura due no per celletta e torraccia bocciate anche le aree dal comune il sindaco ricci ci dicono ora cosa vogliono fare insomma si tergiversa ancora per la nuova questura pesarese giriamo subito il le pagine per entrare nel contesto delle notizie pesaresi e approfondiamo questa notizia di cui abbiamo dato subito la sintesi la nuova questura incassa un altro no bocciate le due aree celletta e torraccia sono definite troppo periferiche si tenta ora con la caserma anche sul suggerimento del prefetto è una doccia gelata questa per il comune di pesaro il sindaco dice noi siamo disponibili ma facciamo presto e facciamo soprattutto una scelta precisa il comune propone una seda ex novo da realizzare su una delle due aree torraccia o celletta le due aree sono state entrambe bocciate però e ora la prefettura ci riproverà con la caserma pesarese acquaroli venga pesaro ha un consiglio sulla sanità si parla del nuovo ospedale si sa che è stato localizzato a muraglia nonostante la tendenza della nuova giunta ormai della giunta regionale di realizzarlo a case bruciate il sindaco invita il presidente e difende marche nord che è in procinto di profondi cambiamenti tanto che la si vuole accorpare all'area vasta ma così perderà la sua natura istituzionale di azienda vedremo che cosa accadrà tenta di impiccarsi in cella salvato dagli agenti di turno villa fastigi dramma sventato in carcere nella notte tra sabato e domenica il sape che il sindacato degli agenti penitenziari dice per il detenuto è stata determinante la prontezza dell'intervento c'è una dichiarazione del segretario regionale nicandro silvestri tutto ciò fa parte del lavoro quotidiano ha dichiarato svolto dalle donne e degli uomini che compongono il corpo salvare la vita ai detenuti che tentano di togliersi la vita ma questo è anche indice della disperazione che vige all'interno del carcere pesarese una disperazione che spesso può portare a questa insana decisione è una vergogna dice anche il rappresentante del sindacato fare il poliziotto penitenziario è sempre più pericoloso noi ci sentiamo abbandonati da tutti dalle istituzioni dalla politica soprattutto dal ministero della giustizia e dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un grido d'allarme che ancora rimane così forse ascoltato ma non poi attuato novax inserviente d'ospedale indagato per chat di telegram istiga alla violenza e all'odio si tratta di un 55enne fanese incensurato che è finito tra i 17 perquisiti in tutta italia per basta dittatura cos'è basta dittatura è un sito internet vedete qui il logo proteste dittatura covid che ha incitato i cittadini alla rivolta l'autorità giudiziaria ravvise reati e distigazioni a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici distigazioni a disobbedire alle leggi e questo questo signore sta per finire appunto nei guai ripartenza anche per stazione gauss lo spazio giovani ha ragione di esistere l'assessore della dora ha risposto agli interrogativi sollevati dal consigliere d'opposizione gambini questo per quanto riguarda la dialettica pesarese e in centinaia si ripresentano all'ex ristò per le vaccinazioni per evitare res arriva la doppia fila tra quelli prenotati e quelli non prenotati vaccini ieri mattina oltre 350 persone a pesaro con prenotazione circa un centinaio senza appuntamento a pesaro si è un po così evitato il problema che si era ripresentato nei giorni scorsi quando i prenotati si erano mischiati ai non prenotati e quest'ultimi anzi i primi avevano subito poi le conseguenze di un ritardo di ore di attesa terza dose portiamo i fragili attivando i car sharing e i taxi l'appello a vaccinarsi di muratori presidente dell'associazione diabetici si sa che il covid infierisce soprattutto a chi ha delle patologie pregresse e il diabete è una di queste più del 30 per cento dei decessi da covid aveva il diabete e mentre l'ospedale di muraglia si va avanti con la terza dose ai fragili i medici dell'area vasta hanno completato le sedute per la terza dose del vaccino anti covid in tutte le residenze protette del distretto di pesaro nel complesso 217 ospiti della struttura sono stati immunizzati e siamo ad urbino marijuana coltivata in casa si apre con una notizia di cronaca nei guai è finito un 38enne di piobbico il quale coltivava in casa propria piantine di canapa aumentano i casi di agricoltori stupefacenti ovvero che coltivano delle droghe dei stupefacenti un'altra piantagione di canapa indiana questa volta piobbico ulteriore arresto in flagranza per un 38enne del luogo incensurato e senza lavoro stabile per il reato di coltivazione detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio insomma un'attività che aveva così sostituito a un lavoro regolare e ieri c'è stata la consegna della laura ad honorem a paolo iabichino una laura honoris causa in comunicazione e pubblicità per l'organizzazione delle uni urbe una lezione sulla pubblicità civile ha trattenuto poi gli studenti e siamo sulla pagina fanese più ciclabili meno parcheggi arrivano altri tre tratti di pista saranno allungate quelle di via della paleotta fanella e roma pericolo strade strette insomma male si concilia la realizzazione vista la vetustà delle strade fanesi con delle piste ciclabili con le misure della careggiata in questo caso o si sacrificano i doppi sensi oppure si sacrificano i parcheggi insomma la situazione non ammette altre soluzioni le nuove aree di collegamento avranno il compito di mettere in sicurezza chi le percorre il tratto più lungo è quello di via fanella che va da fano 2 verso la rotatoria dell'interquartieri una strada che ha già una corsia protetta per quanto riguarda gli autobus ma che ora l'avrà anche per il movimento per la mobilità ciclabile maltratta la madre lei reagisce figlio accoltellato e condannato si tratta di un 21enne a cui è stata combinata una pena di due anni anche se la famiglia rumena residente a fano aveva ritrovato la pace ebbene che cosa è accaduto questa lite all'interno di una lite familiare la donna aggredita dal figlio in maniera eclatante ha reagito con una coltellata ma a finire il processo non c'è finita lei è finito il figlio stesso è stato accusato di maltrattamenti davanti al giudice monocratico ha dovuto rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali cristian il pellegrino in missione per ornella il 37enne fanese tornerà dopo 82 giorni tra l'urde santiago e fatima si tratta di un fanese cristian buzzelli di 37 anni il quale ha compiuto un viaggio avventuroso un viaggio eclatante quello che lo ha portato attraverso la francia la spagna e il portogallo fino a fatima un progetto che doveva farlo per così gratificare sua madre ha detto cristian una avventura soprattutto per se stesso prima di tutto e poi anche per dimostrare come il pellegrinaggio è ancora una forma di preghiera attuale al giorno d'oggi e poi parliamo di un lutto di una scomparsa e deceduto giovannelli sergio giovannelli un poeta fanese un uomo un uomo particolare un uomo dotato di un carattere molto molto determinato è stato un uomo pubblico perché più che parlare di se stesso più che coltivare le sue passioni lo ha fatto pensando sempre alla sua città addio a sergio giovannelli il cantore di fano e della sua anima custode dell'antica tradizione del vernacolo nelle sue poesie scritte e racchiuso l'amore per la sua città ci sarà il funerale oggi in duomo città che legge fanno vince 60 mila euro ed è la terza volta la chiave mettere al centro scuola e nuovi social media è il progetto perseguito dalla mediateca montanari a cagli abbiamo un nuovo successo dei carabinieri soldi per la droga rapinato e investito scovati arrestati tre giovani di ardea spaccio era giro lo studente ferito il 10 ottobre scorso nel centro di cagli si era presentato con 30 mila euro ebbene in questa complessa vicenda hanno raggiunto il bandolo della matassa gli stessi carabinieri ispettori ambientali sulle isole meno pressione su cui effettua il compostaggio brunori dice aguzzi dice sì che cosa significa questo articolo significa che chi fa il compostaggio domiciliare a casa propria ora non vedrà più gli ispettori girare vedere se è fatto bene fatto male se verranno combinate delle multe perché in tutti questi ultimi anni i controlli sono stati molto pressanti ma hanno ottenuto pochissimi risultati perché il più delle volte le situazioni controllate sono state regolari quindi cosa ha detto l'assessore all'ambiente brunori spostiamo i controllori dedicati a questo settore per vigilare ancora meglio sul rispetto delle isole ecologiche dove lì veramente c'è la trasgressione e quindi ci sarà più sorveglianza nel deposito per il deposito in regolare dei rifiuti piuttosto che sul compostaggio a san lorenzo in campo i lavori per la strada comunale 150 mila euro destinati a caprile sfruttato il bando regionale procedono spediti i cantieri di palestra e di marciapiedi e poi downtown il video girato a fano degli elf e conquista tutti la band formata da elementi di marotta mondolfo e ancona si parla della pubblicazione del video downtown il nuovo singolo degli eef che hanno ambientato nella città di fano come segno di cambiamento di stile e di vita la loro musica e vediamo ora sul resto del Carlino la fotonotizia dedicata ad una vittoria di una scuola che è stata premiata addirittura dalla COP26 di Glasgow che ha eletto la scuola Brancati come l'istituto più ecologico al mondo veramente un successo eclatante e poi si parla anche della giunta regionale in isolamento a causa del positivo al covid dell'assessore Castelli altre notizie richiamate telenovela nuova questura torna in ballo la caserma militare e poi novax a estigazione delinquere un 55enne fanese tra gli indagati allarme del sindacalista sospensioni in ospedale e asu senza sostituzione restano i tagli ebbene qui si parla veramente del fatto che il personale sospeso perché non si è vaccinato non sarà sostituito e poi ancora cronaca a fondo pagina tre spari in pieno giorno paura vicino al sottopasso dei cappuccini e rapinato di 30.000 euro arrestati tre giovani e questo abbiamo visto nell'entroterra già i particolari della vicenda entriamo ancora nella notizia sanitari sospesi e non sostituiti così non resta che tagliare e accorpare l'allarme della funzione pubblica della CISL soprattutto di Alessandro Contadini la situazione era già carente afferma quest'ultimo in questo modo le condizioni di lavoro diventano insostenibili per chi resta ma diventano insostenibili anche per i pazienti perché ovviamente chi è deputato alle cure e alle diagnosi è costretto a subire un super lavoro e questo assolutamente non va bene inchiesta Novax indagato un 55enne di Fano e accusato di istigazione a delinquere perquisita la casa e l'ufficio la Digos e la postale di Torino sono arrivati a lui per il suo attivismo nella chat basta dittatura muraglia scelto per non fare due ospedali i tecnici della regione e del comune hanno evitato il doppio presidio ospedaliero con case bruciate aggiunto all'attuale radioterapia e c'è ancora si parla del risparmio dei costi RS Atom, Assello e il Dipartimento delle Dipendenze saranno trasferiti a Galantara il sito di Muraglia doveva ospitare un ospedale unico e grande mentre il nuovo ospedale di Muraglia prevederà gli stessi posti letto del San Salvatore ecco spiegato perché in realtà il nosocomio da meno di 400 posti costa meno invece dei 170 milioni di euro ipotizzati ad occhio dal Master Plan Edilizio Brancati la scuola più ecologica al mondo alla media di Via La Marmora di Pesaro durante la COP26 è stato assegnato il più alto riconoscimento per l'efficientamento energetico in gara, pensate, c'erano 148 strutture scolastiche alimentato unicamente da fonti energetiche rinnovabili l'edificio produce circa 10 kg di enidride carbonica per metro quadro all'anno contro i 550 kg medi di un edificio normale insomma veramente una struttura all'avanguardia e poi anche Pesaro adotta le novità in merito di anagrafe certificati anagrafici scaricabili online così si risparmiano 16 euro di marca da bollo ne parla l'assessore Franco Illucci speriamo che il tutto venga prorogato anche per il prossimo anno ha dichiarato sono in totale 14 i documenti ottenibili da remoto da casa ovvero il nuovo procedimento è valido a partire da ieri e quindi è già in vigore nuova questura torna in campo la caserma il sindaco Ricci in consiglio dichiara il prefetto cerca la soluzione nell'area del 28esimo reggimento ma ci abbiamo già provato due volte insomma lui dice vabbè collaboriamo ancora ma ha poca fiducia bocciate le altre due aree come già abbiamo detto no a torraccia e celletta troppo periferiche il sindaco dice no non sono d'accordo e queste sono le sue posizioni a Novilara il cimitero non potrà essere sistemato prima del 2022 il piccolo Camposanto è in degrado Malandrino che è di forza che è di fratelli d'Italia dice un intervento servirebbe subito chiedo di intervenire per sistemare un muro che crollando ha scoperto i locori lasciando i feretri alle intemperie veramente una situazione inqualificabile e poi anche sul resto del Carlino abbiamo il percorso compiuto da Cristian Buzzelli a piedi in 68 giorni sono stati percorsi 1578 chilometri camminando dall'Urd fino a Santiago dei Compostella e poi fino a Fatima un viaggio un viaggio interessante ancora la cronaca spara tre colpi di pistola terrore tra i passanti è accaduto ieri mattina alle 11 sotto il cavalcaferrovia dei Capucini a Pesaro l'arma in mano ad uno straniero che litigava con altri tre stranieri presumibilmente dell'est secondo un testimone hanno cominciato a litigare furiosamente tra di loro parlando a voce alta con vehemenza in un linguaggio incomprensibile ma improvvisamente uno di questi ha estratto una pistola e ha sparato tre colpi in aria come se volesse dimostrare di essere pronto a raddrizzare la questione con un'arma decisiva il testimone è terrorizzato e fuggito e ha chiamato il 113 e quindi è arrivata la polizia cantiere al porto esposto in procura sul sottosuolo la richiesta di indagini geologiche per la ricerca di eventuali pesticidi un tempo stoccati nel vecchio consorzio è il gruppo di fratelli d'Italia che sollecita analisi del terreno per una più accurata introspezione per evitare di avere un'AMGA 2 e poi ancora un furto spaccata al bar della stazione rubano sigarette subito presi la polizia ha corso grazie all'allarme del locale ha bloccato in flagranza di reato due romeni avevano rubato 274 pacchetti per un valore di 1500 euro ed ora siamo sulla pagina di Fano l'apertura sul quotidiano bolognese è dedicata al vaccino vanno a vaccinarsi e trovano chiuso neanche un numero per informazioni e qui si parla del CODMA tensione e rabbia ieri pomeriggio al CODMA dove diverse persone si erano presentate convinte di potersi sottoporre alla somministrazione del vaccino neppure i medici di famiglia ne sapevano nulla i vaccini stando a calendario affisso fino alla fine del mese si effettano solo al martedì il giovedì e il sabato mentre gli altri giorni vengono effettuati nelle sedi di Pesaro e Urbino non è accettabile ha dichiarato Nadia Paci una docente fanese trovare le porte sbarrate di un centro vaccinale così importante divenuto un punto di riferimento per tutti noi dall'inizio della pandemia senza che neppure i medici di famiglia ne fossero informati addio a Sergio Giovannelli cantore della fanesitudine il poeta gli alettale aveva 89 anni autore degli omaggi scultori di Piazza Ammiani si era un poeta pubblicato diverse poesie soprattutto in dialetto ma è anche il fautore delle memorie cittadine quei busti che si trovano in Piazza Ammiani al lato della Luigi Rossi della Mediateca Montanari ritraggono personaggi illustri fanesi Fabio Tombari Giulio Grimaldi Luciano Asselmi Ruggero Ruggeri di cui addirittura quest'anno ricorre il centocinquantesimo della sua nascita ebbene ha voluto ricordare questi personaggi in segni lasciando una memoria visibile in pieno centro storico un commento un compianto che viene fatto da tutti gli uomini da tutte le persone uomini e donne che lo hanno conosciuto è retrodotto a Metauriglia ma non d'estate né sulla statale ecco le ipotesi emerse durante l'incontro con Terna i cavi sotterranei costeggeranno la chiesa poi passeranno sotto il fiume è l'esito dell'incontro che c'è stato tra Terna e i residenti di Metauriglia venerdì scorso io matematico prestato all'archeologia è una pagina monografica scritta da Silvano Clappis per quanto riguarda Pier Giorgio Budassi che è docente ex docente perché è in pensione dell'Olivetti del Polo 3 e anche presidente dell'archeoclub di Fano e poi ancora a San Lorenzo in campo la dottoressa pronta a estendere il servizio dopo la battaglia del sindaco e dei cittadini laurentini comincia oggi l'attività del medico Sonia Curzi un pomeriggio a settimana per un pomeriggio a settimana a San Lorenzo in campo ci sarà il medico di medicina generale anzi un medico di medicina generale in più a sostegno appunto del servizio già esistente si tratta di Sonia Curzi che fa già ambulatorio a Fratterosa e a Pergual ed ora passiamo allo sport vediamo come la visse nonostante le brutte partite le brutte anzi i brutti risultati diciamo meglio ottenuti nelle ultime due partite ma una bella dimostrazione di calcio si appresti ora ad affrontare più forte di prima intitola oggi il Corriere Adriatico il prossimo incontro Marcandella ripercorre la sconfitta subita domenica al Braglia sappiamo che siamo quelli del secondo tempo il pari comunque ci stava ma non è stato ottenuto e per quanto riguarda invece il Fano Calcio per Costantino non è ancora fatta il tecnico calabrese resta la prima scelta ma oggi a guidare il Fano ci sarà ancora Fiscaletti che era il vice del precedente allenatore in Granata intanto cominciano l'avvicinamento per la trasferta sul campo del Fanalino di Coda chi è il Fanalino di Coda si tratta dell'Aurora Alto Casertano scusate sì dell'Aurora Alto Casertano a Prati a Capriati Volturno che milita nel girone alla luce del 3-0 subito a Nereto nell'ultimo incontro Fanalino di Coda l'Alma in crescita forse il risultato positivo ci sarà nel prossimo weekend per la VL Amadori lascia il presidente del consorzio a fine stagione si dimetterà non c'entrano le sconfitte la decisione era comunque già presa impegni di lavoro sono troppi ha detto Amadori e me ne vado a mal in cuore una scelta obbligata fatta per il bene del club ebbene era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre nella rassegna stampa delle 7 e le notizie su Fano TV ritornano questa sera alle ore 20 e 30 per quanto riguarda le notizie del giorno buona giornata